Musica Cari amici benvenuti in questa nuova puntata di Minecraft Ed eccoci su Master Sargeon Yeee Questo è una specie di Sargeon Simulator in Minecraft creato da Super Trinity Grazie Complimenti per averla creata e ora partiamo subito alla scoperta di questa modalità di gioco Guardate che bello il logo Stupendo, già posso capire che devo fare le punture alla gente Devo spaccargli le ossa e dire ma ce l'hai un cervello perché io non ce l'ho purtroppo Quindi lo scopo del gioco è uccidere tutti, giusto? Se lo scopo del gioco fosse quello sei sicuramente più bravo Perché se voi state male dite c'è per caso N le vicinanze Piuttosto uccidete perché vi curerà il peggio della morte Oppure se proprio non volete morire operatevi da soli senza anestesia Ok, iniziamo a giocare Abbiamo qui, eh mamma mia Eh vabbè Questi sono tutti i tipi di blocchi esistenti Abbiamo lo scalpel Eccomi, eccomi ci sono Ma no No, il fegato che non funziona Lo stomaco Il cuore Mamma mia Dei pezzi d'osso che si possono togliere Dei pezzi di tessuto che si possono togliere Delle ferite nella pelle E poi abbiamo le siringhe, la medicina Oppure le bende Spero che ci sia un tutorial Quindi per ora non sto a leggermele tutte E andiamo a vedere cosa dice qua About, vediamo Clicca qui Il tuo lavoro è quello di completare tutti e sette Sette I livelli I pazienti moriranno in fretta Eh Glielo auguro Gli basta guardarti Soffrereste meno Io ve lo dico Eh sì sì Ok Dobbiamo cercare quindi di sbrigarci Perché c'è un tempo limite I livelli diventano sempre più difficili Eh E ci auguro buona fortuna Falli morire Sarebbe stato meglio così Vai vai Iniziamo a questa nuova partita Eccoci Steve Poverino Oh sei tu Ciao soffertiti Che piacere Sono nuovo chirurgo Pessima Pessima Ok Ti guiderò attraverso la procedura Meno male C'è anche un tutorial C'è un pezzo di pelle laneggiata Su un braccio Si comincia Ok Steve Sappiamo chi è Ciao Mi dispiace Mi sa che ti ammazzo Io ti do il colpo di grazia Chi è Alberto Tristemente stava andando sulla bicicletta Hanno aggiunto le biciclette In Minecraft È fantastico Eh lui è caduto infatti È caduto Non era appunto ancora capace Quindi questa sarà la nostra prima operazione chirurgica Puoi fermare il sanguinamento lanciando le bende sulla pelle tagliata E puoi usare la medicina cliccando col tasto destro sulla pelle malata D'accordo Cerchiamo di riportarlo in salute Poverino Allora clicca qui Per ricevere medicine e bende D'accordo Ho la medicina E clicca destro E poi devo lanciarla Oh cocorino E la ce l'ho tappo Vai curiamolo Prima che muoia Sbrigati Spero che Muore per questo Non lo so Va bene Scusate Certo lo sto curando Ma li sto anche mettendo i piedi negli occhi Non so se è una grande cosa Ti immagino se possono avere chirurghi dei micromini Che vanno in giro per il corpo a fare le cose Cosa vuol dire preparati per la parte migliore Questo è lo scalpello Eh scalpello Delle ossa rotte da togliere Non ci vedo Ok mi sa che gli abbiamo strappato i vestiti Non so dirti se poi gliele ripagheremo Ma pazienza Io devo entrare qua E rompere l'osso E rompergli l'osso Va bene E C'è una botola sotto C'è una botola Non mi Non mi dire che mi fai entrare dentro Eh Solo dentro Oh no Ah Ok Immaginiamoci che siamo Abbiamo messo una sonda nel suo corpo E dobbiamo cercare di curare i problemi Direi lì Quindi questi qua sono i tessuti da rompere Per andare in altre zone È tipico che uno quando cade alla bicicletta Gli compaglia una ossa di troppo Va bene Allora cerchiamo di passare Dove devo andare? Devo completare cinque sfide Esattamente che cosa intende dire Beh Cos'è questo? Cos'è questo? Dobbiamo trovare e rompere tutti i batteri e gli organi Ma sì Ma dai Se c'è un organo toglilo Tanto cosa ve ne serve No Ma che hai ingoiato un organo vero Un pianoforte più grosso Ah poi dai Sì va bene Poi andiamo a rompere questo Sì Sì Ok Laggiù ce n'è un altro E come ci arrivo? Passa su Non hai neanche da rompere Ah no aspetta Ah perché c'è un super salto Vai Togli questo Sette completate E ora c'è mica qualcos'altro Vediamo Non c'è il tempo Perché questo è un tutorial Il cuore Ho visto il cuore Abbiamo il cuore Devo togliere il cuore No davvero Senza cuore Steve Si trasformerà In Neuro Brine Se ce l'abbiamo fatta Cerotizzalo Perfetto Qui dobbiamo cerotizzarlo Ottimo Ancora una qua Sulla faccia Ti sei rovinato qui Sì sei rovinato anche la faccia Mi sono perso Ah eccola qua Abbiamo curato Stavolta naturalmente La tua maglietta verrà distrutta di nuovo Perché sinceramente Poi si vede C'è una costola incrinata Eliminala Eliminiamo tutto Via E cerchiamo di nuovo Di entrare Dentro il corpo di Steve Per la seconda volta Mi dispiace 60 secondi 60 secondi Poi arriva l'apocalisse Lì lì Aiuto Vediamo cosa riusciamo a prendere Portiamo tutti nello scantinato Speriamo che non ci vuole digerire D'accordo Devo Passa di sotto No aspetta Ci sono due strade Prendere una Non importa Non cambiava niente Ho perso solo tempo Accidenti Sennò volevo fare un salto Abbiamo lo stomaco Certo Così fare prima E liminalo No di qua Ci sono un sacco di strade Ci sono veramente Tante strade già E questo è il primo Vero livello Guarda dove è nascosto Incredibile Siamo di nuovo a 7 Metà tempo Siamo a metà tempo Accidenti Non so se troveremo Abbastanza cibo In scatola Per supervivere Vuoi supervivere Dentro uno stomaco Si dentro uno stomaco Perfetto Mi sa che gli acidi casti Ci fanno il lavoro Al posto tuo E siamo a 9 Abbiamo da togliere lo stomaco E ci siamo Perfetto Oh è 51 secondi Ci hai messo Non è vero È che l'hai messo da capo D'accordo Ottimo lavoro Anche questa volta Prossimo Superman Eh sapevo che abbiamo Perfetto male In quel lavoro Che fai No Si è avvelenato Il fegato Poverino Eh capita Capita Forse di combattere Con la gente Eh sì Mi sa Troppa Troppa Criptonite È rimasta un po' Sulla strada Non doveva mangiarsi Glielo Dicevo io Di non andare A cena con l'ex luto Che si diverte male D'accordo Stiamo curando Alla fine Mi chiedo Come abbia fatto A farsi male Dovebbe essere Un po' resistente Eh ma Ma Strappati i vestiti Eh Potevi dammelo La tenevo come collezione Ma Ecco qua Stavolta Qui E ti guarda Non ti togliamo Neanche delle costole In gas 80 secondi 80 secondi Sbrigati Da che lato Dove andare Di qua Proviamo Sbrigati Da questo lato Che può È una stanza gigante Alla Questi Non li devo Disto Cos'è Sono basi sanguigni Ahia È lava Aspetta Ce n'è uno qui Atteggiare Non cascarmi Nel sangue Che succede Se muoio Dentro Il corpo Il paziente è morto Il chirurgo Anche Di cosa è successo Non lo so È entrato Un po' Da più profondità Ne ho presi 8 Ma Non c'è Non vedo niente Che succede Mi sono mica Penso qualcosa Inizio Il fegato Magari È vero C'è Il fegato I soldi Fegato Sono C'è Gli organi Sono sempre In bella mostra E qui non li vedo Quindi magari Mi sono dedicato qualcosa All'inizio Non ho visto Siamo 30 secondi Manca poco Ci sta muovendo Di sanguato Sto tipo Siccome stava Che può darsi Ma che tu stai muovendo In sanguato Ecco c'è uno Eccolo qua Trovato Trovato Vai Preso Ottimo Ah c'è uno qua 20 secondi Di me che ci sono Dov'è? Il fegato No Devo salire? Devo Mi sa che devo salire In fredda Sbrigati Sbrigati Se sbaglio Anche su una volta Cado E' andata E' andata E' andata E' andata Non ce la farò mai Non ce la farò mai Non ce la farò mai Superman Muori Muori Anche noi moriamo Noi moriamo prima di Superman Però morire dentro lo stomaco Di Superman Non è Sono sempre Stavolta Ce l'avevo fatta Salire Il mio paziente è morto Dai Dai Accidenti Non è il sangue Non ci posso credere Ci siamo Ci siamo Sono salito Eccolo lì Eccolo lì Fegato malato Ok abbiamo tolto Il fegato di Superman Olli mettiamo Quello di Spiderman Che è più buono Ma ti l'hai staccato anche No L'impressione Cerchiamo di prendere O ne ho Tutte quelle Dall'altro lato Devo sbrigarmi Ma ha scritto anche Un fail Ma sei Ben fido sei Fail Grazie Grazie Ci abbiamo anche il suono Abbiamo L'allegra Chirurga Qui Che bello Sì Chirurga Quando volevo Internare Tutte i testificate Ma poi Non ha potuto farlo Perché Peccato Mi sono impedito Dai l'ultimo 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 Ci siamo No 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 Perché non potresti operare I testificate Perché sono morto E vabbè Risuscita e opera lì No Ah no Mi ha lasciato i secondi Di prima Non è che avevi cominciato a capo Non me lo conta Con come fail Non me lo conta Con come fail Dai dai facciamo Ce la facciamo Cioè Ditemi Ti fate per me No no Ti fate per me No no Ti chiamerò mai Per te Dai se ce la faccio Ce la faccio 10 secondi 8 7 6 5 2 1 0 Completata Grazie Grazie Invece i nostri fan In descrizione Si in descrizione Si è riuscita ad acchierare La descrizione Anche No Nei commenti sicuramente Ti fanno per me Perché sono più gentili Di te Ma io neanche un unghie Mi fai un unghie Ok Longfrey Che bello Vediamo Oh è il dottor Chioros Che bello Dai proviamo subito A vedere Se possiamo Ridargli Un pochino Di salute Sto poveraccio Butta celote Vai Eh Sto qua deve essere caduto Dal minecart di diamante Porrino Poverino Mi dispiace tanto Però si è rotto gli occhiali È già qualcosa Eh però si è ammaccato gli occhi Ma magari uno dice Guarda in realtà È un neo Quindi non dovevi curarlo Ma pazienza Abbiamo rimosso anche Facciamo anche Chirurgia estetica D'accordo Scendiamo Ok rompigli lo sterno Eh che bello Praticamente uno potrebbe dire Ho partecipato a un video Di Dan Dall'interno del suo corpo Ah C'è un pezzo sotto di te Dove Dove Ah C'è i denti Lo sto vedendo D'accordo Che postaccio è questo Non mi piace per niente Di qua ce n'è Bene Siamo a 6 Sbrigati Perché deve essere così strano Sto tipo di vento E se non è sangue Non so che cosa sia Mi lancio Salta salta Che pelo Che pelo E ora Per me deve andare dall'altro lato Dici Come ho sbagliato l'altro lato Sì Vai di là Vai di là Vai di là Ok Vedi che ci sono i polmoni Ok mi trovo i polmoni 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 Sì ma Mi ne mancano comunque tre Mi ne mancano comunque tre Tre No Dice che devo tornare indietro Per andare dall'altro lato C'è un altro lato Accidenti No Non ti ha preso come fail Non mi ha preso come fail Se muori non te lo prende come fail Se finisci il tempo Invece è un fail proprio Dai Devo andare adesso di giù A sinistra No Non puoi nuotare dentro la lava E ci sto provando a nuotare Devo fare in modo di non entrarci a contatto Nemmeno per sbaglio Almeno con quello piatto Invece quando sono andato Invece di cascata Non è stato un grosso problema Perfetto Di qua Sì Ci c'è uno Mi ne mancano due Mi ne mancano comunque due E di qua E di qua Non ci puoi arrivare E di qua non ci si può mica andare Non ci puoi andare Cambia strada Cambia strada No 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 Me ne sto perdendo Me ne sto perdendo E così che non ci sia niente di qua Niente Di niente Un qualche passaggio in alto Qua 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 No Me ne manca comunque uno Cirente Oh no me ne manca No Non ho visto niente Qui mi No Non lo sono immaginato Non lo sono immaginato C'è un polsante No non è vero Dove Dove Non lo vedo Dai Non è possibile Non fammi questo Non ho togli secondi No 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 Non è che ci sono dicato magari qualcosa all'inizio Che non avevo visto bene Magari c'era Era subito da queste parti Invece No Fail Mi dispiace Mi dispiace Il paziente è morto A me non ti fa rifare la parte iniziale Dobbiamo recuperarlo Per il bene di milioni di persone Dobbiamo farcela Aiutateci Aiutateci Magari voi l'avete già visto Non lo vedo Non lo vedo neanch'io Non lo riesco a vedere Allora questa zona apparentemente non c'è proprio nulla Andiamo a tornare indietro e vediamo se c'è qualcos'altro Qualche zona qui nascosta laterale Niente Non si trova Niente Come l'avete nascosto in queste cose No 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 20 secondi 20 secondi Manca poco Manca pochissimo E qui non vedo L'ho ritornato Di stessi dell'altra volta Proverò di tornare su Magari mi sono perso qualcosa subito All'inizio inizio Ti immagini Ma l'avevamo già guardato Non c'è niente No 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 E allora di qua Di qua Da qualche parte Lateralmente Di lato Da questo lato No Di nuovo Fail Questa cosa Non sa da fare Cerchiamo bene di guardare Con massa attenzione Fin dall'inizio Per caso ci siamo dimenticati Qualche cosa Meno purtroppo Non riesco assolutamente A vedere nulla di strano Sti batteri Si sono infiltrati In un modo pazzesco Scusa ma i batteri Non sono viola I batteri sono viola Potrebbero essere Mimitizzati nel sangue Eh no perché Non in quel senso Invece c'è un singolo blocchettino In un angolo Che tu devi Eccolo 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 Maledizione l'abbiamo trovato L'abbiamo trovato Non mancante Guarda la mia idea non era male La tua idea non era male Ma era troppo bifida Quindi meno male Che non ti ascolta Magari qualche livello Più tardi così No Non voglio dire Bene Dai stavolta ce la possiamo fare Se non sbaglio troppo Prima di andare dall'altro lato Che fosse un pochino più facile Adesso che tornare indietro Ci perderei più tempo E finalmente Salviamo la vita Anche un cagnolino schelettico Sarebbe contento di vedere Quanto è bello girare Per le ossa Del suo padrone Sì per le ossa No 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 Ho segnato Sono andato troppo avanti Non ho andato troppo avanti Io sì che mi perderei Qui all'interno di uno Tipo toc toc Cos'è quella voce Che ti fa nello stomaco Eh chi è che si è persa Esatto Dovevi curare il cervello Sei finita nello stomaco No 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 Perché Perché Non ho mai sbagliato E ora invece sto sbagliando Tro Tro È la mia vicinanza Che ti sta facendo Eh lo noto Trenta secondi Un solo polmone Oh no No Senti eh Fammi una cazocina propiziatoria ... Propiziatorio? Perdi, 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 perdi E no, discommento che ti accordi No, ho perduto veramente Ma mi ha contato un fail in più Ma, no perché fail, fail Ma è giusto Eh, si per assonanza, sai Ero a tre, poi Io mi ricordavo tre, vabbè non importa Io sono coacherato il sistema per arrivare in più Va bene, non posso sbagliare Stavolta devo assolutamente Raggiungere i polmoni Dai, ne mancano due Adesso abbiamo trovati tutti Quindi dobbiamo riuscirci in qualche modo Sbrigati, salta di qui Non sbagliare, non sbagliare Distruggerò con lo scalpel E polmoni Siete il mio ultimo obiettivo Si, mi sa che rimarranno un obiettivo Ok, dai Ce l'abbiamo fatta Finalmente Salvo, missione Completata e via Anche i polmoni Praticamente stiamo creando Frankenstein, stiamo andando a togliere I pezzi dagli altri per creare il nostro essere Uno il cuore, uno i polmoni In realtà sono tutti sanissimi, siamo noi che stiamo dando fastidio Ok, questo dobbiamo sistemare Il pancreas Proviamo subito a mettere le bende di qua Di là, ma sarebbe bello, forse si è successo a tempo Anche la prima parte Si è lanciato male, vedete appunto Sempre divertente Così uno è più in ansia fin dall'inizio D'accordo E ora togli di tutto E si Scende Dove c'hai l'entrata buon uomo? È sotto una costola Sotto una costola Dov'è? Là, d'altra parte Sotto una costola Eccola qua, d'accordo Vai Cento secondi Cento secondi Che postaccio Siamo dal pancreas Siamo vicino al pancreas Che cos'è? È un labirinto È un palo per la lap dance Per la pole dance È un labirinto Gente Che senso ha? No, 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 no C'è una paura matta Come faccio a trovarli? Non ce la trovo Non ne trovo neanche uno Ecco No, me lo sono inventato Ecco Abbiamo trovato il pancreas E già questo è positivo Finora Un'unica cosa Abbiamo trovato solo quello È assurdo pensare Che devo Sono solo quattro Che devo trovarne altri Non sto trovando Eccolo Eccolo Mamma mia Non riuscirò neanche a ricordarmelo Se dovessi fallire Quindi cerchiamo di farlo Al meglio Al meglio Delle nostre possibilità Di qua Non vedo Devo saltare ovunque Perché ogni piccolo blocco Potrebbe nascondere qualcosa Meno male che le osso Si vedono meglio L'osso è ancora fattibile È terribile Tessuto Osso Osso Perfetto E mancherebbe uno solo Uno solo E 50 secondi La sfida Non ce la farei mai No, no, no Dai, dai, dai Non voglio sbagliare Non voglio perdere In queste condizioni Eccolo Non ce l'abbiamo fatta È andata malissimo Con quello prima Ma stavolta Che si vava ancora peggio In realtà è stato molto duplice Evviva Si passa Alla prossima operazione In un modo o nell'altro Siamo riusciti a non far morire Più di un milione di volte I nostri pazienti E in ogni caso Vi ringraziamo tantissimo Per stare con noi Fateci sapere Se volete che proviamo Anche a salvare Gli ultimi due Che mi aspetto Che sennò No, gli ultimi Le passiamo direttamente Veramente cattivi Da risolvere Comunque Dettecelo nei commenti Fate sapere Se Monster o Sargion Oppure anche Sargion Simulator In Minecraft Vi è piaciuto E Alla prossima Con Yeti And Love Ciao